Avere dei bambini consapevoli di cosa vuol dire il cibo, qual è il valore legato al cibo, cosa significa per una società? Per una società vuol dire favorire la crescita di un cittadino equilibrato, che sa scegliere nel tempo, che sa individuare le cose giuste e che sa fornire a se stesso e agli altri non soltanto un'educazione alimentare ma una vita alimentare più sana. Grazie